ci così qui falco a tutti qui falco a tutti no allora pratica che ho appena fatto il corso dei nuovi iphone e se fa un assunto di due minuti due minuti e mezzo con delle informazioni dei richiami affinché tutto abbia un senso logico e allora che ha fatto l'iphone 12 l'iphone 12 mini gli stessi al 12 ma un po più schiacciato stesse funzionalità iphone 12 pro e iphone 12 pro max tutti hanno il nuovo chip che fa più se passa di operazioni al secondo e tutti sono in ceramica c'è un nuovo colore blu rispetto rispetto a prima caratteristica di tutti questi iphone è che praticamente vedete un nomino un piccolo fotografo detto nell'iphone che te appena che te scesse che te fettate sul display lui pensate lui a mettere un rullino se occorre il flash a mettere il flash a mettere la camera oscura il filtro blu per il bianco e nero il filtro rosso eccetera eccetera e poi vedete anche che il 12 pro il 12 pro max che ha una fotocamera un po che se può fare i selfie d'anti e di dietro anche di notte che su stanza vengono fuori bene e alla fine i gadet come cosa nuova rispetto a prima siccome i gan to it che fabbrica il caricatur e le scoffie che oramai hanno un tante bene tutti anche perché non neanche cambia il telefono e quindi per forza costa tanto in termini di inquinamento del pianeta adesso è in pratica questo che ha fatto un nuovo sistema cioè che ha tirato via per far fare la breve dalla scatola e che ha tirato via le screffie e il caricatur e che ha detto anche che ci risulterà strano da oggi in poi collegare un cavo all'iphone cioè fino a ieri gandhi a 50 euro al cavetto adesso ci risulterà strano collegare un cavo all'iphone e come ti farete a caricare al tuo citofono in pratica allora è una scatola che è mia come già detto caricature e scoffie quindi ti chiede a comprare se vuoi a parte un caricatore magnetico l'origami T dei magneti detti in dell'iphone se ti compri questo caricatore magnetico avvicini l'iphone al caricatore e se ci c'è e si attacca insieme e il caricatore comincia a pompare corrente sulla falsa riga siccome ti metti le calamite e ti fai anche per fare altro così ti ha fatto anche ti ha fatto un portafoglio che tu avvicini all'iphone e si attacca insieme e quindi ti garete il telefono con attaccato il portafoglio l'unica roba che crede sta bene attenti è il telefono in una tasca della giacca e il portafoglio nell'altra perché se ti incontri un'altra persona a meno di un metro l'unica di chi è sicuro è perché col covid devi stare più di un metro però se casualmente ti incroci una persona sotto il metro che ha l'iphone 12 se si c'è che l'ha al tuo portafoglio si attacca all'iphone che l'altro e praticamente senza che ti accorgi che l'ha il tranquillo al portafoglio insomma poi niente per concludere quindi che è carica magnetica siccome che per il caricatore quante avete che ha soprattutto se ti avete in bagno per esempio se avete mettere l'iphone sul lato lungo ma in verticale ti siedi sopra lui con i magneti il capisco quando è a contatto del corpo si sente sussura e lui e comincia a caricarsi ecco che sto più o meno l'è al riassunto cioè che dite nell'iphone c'è un omino che scatta le fotografie al tuo porto ecco che scatta le fotografie al tuo porto